Lo scandalo delle tangenti si allarga ad altri due deputati europei. Su richiesta dell'autorità giudiziaria di Bruxelles, la Presidente del Parlamento, Roberta Mezzola, ha avviato la procedura di revoca dell'immunità di Marc Tarabella, eurodeputato eletto in Belgio, e di Andrea Cozzolino, suo collega italiano. La circostanza è stata confermata dalla stessa Mezzola, che con un messaggio pubblicato sui social ha promesso di non permettere alcune immunità perché risulta coinvolto nello scandalo. Tarabella, per bocca del suo avvocato, ha confermato di essere a totale disposizione della giustizia e di non volersi nascondere dietro l'immunità. Per Cozzolino, che nei giorni scorsi si era dimesso dagli incarichi nel gruppo Socialisti Democratici, lavorava come assistente Francesco Giorgi, arrestato insieme alla sua compagna Eva Caili, vicepresidente greca del Parlamento europeo. La procura generale belga ipotizza a carico loro e dell'europarlamentare Antonio Panzeri una associazione per delinquere volta al riciclaggio di denaro. Gli indagati avrebbero intascato delle ingenti somme incontanti da rappresentanti del Qatar, del Maroc e della Mauritania per ammorbidire la posizione ufficiale del Parlamento europeo nei confronti dei loro rispettivi paesi, spesso messi sotto accusa per il mancato rispetto dei diritti umani.